La città di Altavilla Milice è rimasta senza sportelli bancari. Si tratta di una delle conseguenze della decisione di Unicredit di chiudere sei filiali in Sicilia, di cui quattro a Palermo e provincia. A lanciare l'allarme nelle scorse settimane la CGL di Bagheria e la FISAC CGL di Palermo, che parlavano di un grave disagio per il territorio e per le ricadute economiche e sociali. La filiale Unicredit di Altavilla Milice è l'unico sportello bancario esistente e quindi, avvertivano i sindacati, la chiusura costituirà un danno notevole alla cittadinanza del comune e per la funzione sociale che le aziende bancarie dovrebbero svolgere per la collettività. La notizia, però, purtroppo è stata confermata nell'escorsione al provvedimento e diventato definitivo. Il sindaco di Altavilla Milice, Pino Virga, già intervenuto sulla questione, adesso rincara la dose. Da oggi, come annunciato, lo sportello bancario Unicredit di Altavilla Milice è stato chiuso, spiega il primo cittadino. Sono fermamente convinto che sia stata una scelta sbagliata dell'azienda, che avrà ripercussioni negative non solo per la comunità altavillese, ma anche per la stessa banca. Purtroppo, le logiche del mercato e dei numeri sono prevalse su ragioni che non esito a definire etiche e che un prestigioso istituto di credito, ritengo, debba perseguire al pari dei profitti. Abbiamo tentato in ogni modo di dissuadere Unicredit, anche attraverso una raccolta di firme, ma in vano ce ne faremo comunque una ragione. La nostra comunità ha superato problemi ben più gravi. Desidero comunque rivolgere un appello a tutti gli istituti di credito che operano in Italia, affinché decidano di investire ad Altavilla, offrendo adeguati e professionali servizi bancari agli altavillesi e ai numerosissimi forestieri, turisti e residenti stagionali. Sono certo che una scelta di fiducia verrebbe ripagata anche da importanti profitti.